Cari amici, eccolo qua, più forze dell'ordine nelle zone a rischio, uno per tutti, perché tutti i giornali nazionali e anche locali questo dicono, che ci sono più forze dell'ordine nelle zone a rischio. Ho fatto un piccolo esperimento per conto mio e sono passato al centro di un capoluogo di provincia e ho visto ogni 50-100 metri una pattuglia di vigili, poi 300 metri più in là una pattuglia di carabinieri, poi ancora dei vigili, poi la polizia, poi il camper con la stazione mobile dei carabinieri. Insomma, ho visto che durante il periodo dello shopping, durante il periodo in cui i commercianti hanno ovviamente bisogno di sentire non soltanto la finanza sul groppone, ma anche la tranquillità della vita cittadina e che le forze di polizia ci siano, bene, c'erano. Voglio dire a chi si interessa di forze di polizia a livello governativo un piccolo segreto. Da noi tutti i giorni è Natale, non c'è più necessità che siano le lobby dei commercianti o le lobby di qualcun altro a richiedere le forze di polizia e dopo aver detto che purtroppo sono poca, non ci sono soldi, eccetera, eccetera, puoi trovarle. E no, è tutti i giorni Natale, è tutti i giorni che la gente normale, comune, quella che non muove tanti soldi, quella che non ha forza di convincere, quella che non può nemmeno votare con le preferenze per cui mai più, piuttosto, gli cascherebbe la mano per votare per qualcuno, per esempio, che oggi fa il ministro. Bene, quella gente non ne può più, è Natale, tutti i giorni signori del governo, forse non lo volete capire, presto o tardi sarete costretti a capirlo e speriamo che sia lontanissimo quel momento, ma non ne può più nessuno, non non se ne può più.